Ciao ragazzi, ciao ragazzi, non si vede niente, ok? Oddio Ok, ok, così va molto molto meglio, però Ok, così Oggi sono qui perché voglio mangiare insieme a voi una cosa molto molto salutare, come avete detto dal titolo Perché c'era la faccina con le disate? Oggi mangerò il pollo fritto con le patatine, le Pringles alla cipolla Molto salutare Ok, e visto che erano troppi poche ovviamente le Pringles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mi ho presi un pochino qua, mi ho presi poche Comunque mi raccomando, non mangiatelo ogni giorno questa cosa Cioè mangiatelo magari una volta al mese, una volta alla settimana Però non ogni giorno, mi raccomando, perché non è salutare Stavo scherzando, ok? Allora mangerò questo, questo e poi ho appunto il bicchiere Visto che vi piacciono appunto tanto questi video Comunque credo che lo farò durare sui 10 minuti Almeno cerco di farlo durare 10 minuti Perché a me ne annoiano I video troppo lunghi No, del mangiare non tantissimo Però comunque, vabbè Ok Allora, incominciamo subito Comunque questo pollo è, secondo me, buonissimo Poi non lo so, eh Ovviamente mangerò con le mani perché tanto Ah, e perché a me mi piacciono magari che parlo E mentre mastico Si vede pochissimo Perché io cerco di fare appunto così Quello che ho in bocca Ragazzi, levate il video Perché a molti, nei miei iscritti, vi piacciono Ad altri, vi fanno schifo Quindi Guardate altri video, tanto tantissime tipologie di video Allora Allora Ma buonissimo questo pollo Perché è fritto La provo Ah 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 In ogni video dico All'ultimo Una cosa che ora vi dirò Però la voglio dire ora Perché tanto Questa è un video dove Dove nemmeno parlare Quindi ve lo dico subito Ma Se Per I 200 iscritti Mi piace l'idea Che farò un giveaway Ditemi se vi piace l'idea Per chi potrei pensare di fare appunto un giveaway Dei 200 iscritti Che non ci siamo ancora arrivati Però comunque ve lo voglio dire Quindi scriviamo i miei commenti E magari Scrivetemi anche se vi piace Se Devo vincere Tre persone Due O uno Ovviamente Se una persona Farò Un Un premio Molto bello Se due Farò un pochino meno bello E se tre Ovviamente non farò così tanto bello Perché appunto Cioè Se no devo spendere Tantissimi soldi Quindi dirvi se vi piace l'idea Ma scrivetemelo Perché ragazzi Io ve lo dico In ogni video Nessuno mi ha ancora scritto niente Quindi ragazzi Vi dovete spiegare Perché A 200 iscritti Ci stanno arrivando E io intendevo farlo appunto Proprio per i 200 iscritti Magari anche 201 Però comunque Diciamo Oggi ragazzi Ma quando mi hanno toccato Di portare Toaglioli Spiattando un attimo Mentre Andata di là Ha detto Che mia mamma Che tanto Se voglio altro pollo Se ho ancora fame E c'è ancora Mi raccomando Scrivetemelo Scusa Questa parentesi Non me lo ricordo Aspettate Non me lo faccio Mi viene in mente Che me lo sono ricordato Se voi siete già andati a mare In spiaggia A notare Io sono andata in spiaggia Ma non a notare Non mi sono fatta il bagno Vedetevi voi Giù nei commenti Se vi siete Oddio che bella Se siete andati Appunto In spiaggia Se siete andati a notare Io non ho ancora Perché avevo un freddo Oggi ci sono andata Volevo fare il vlog Solo che la scarico la telecamera E quindi non potete fare il vlog Mi dispiace Ma una lenta volta Lo faccio Non so se Ho caricato prima questo video O quell'altro Ma io vi farò Un vlog Bellissimo Ma davvero stupendo Andrò In una delle 5 tele Cioè Monte Rosso E Mi farò un vlog Bellissimo Ci staremo Dalla mattina E Dalla mattina A pomeriggio Oddio ma quanto è lunga E quindi Non perdetelo No Spero di caricare Prima questo video Perché sennò Sto dicendo cose a caso Perché Tanto l'abbiamo già visto Di sicuro Però vabbè Perché Andremo ovviamente In terreno Perché si deve Mangere i miei panini Avemo di tutte E di più E quindi Non ve lo dovete perdere A me ne sono tantissimi vlog In terreno Mi piace troppo Non so perché Quindi Lo guarderò 500 volte Questo Quello E il video Non smetto Di parlare Ora Perché io voglio fare Il vlog Dalla mattina Alla sera No Non ci stanno Fino a sera In realtà Trovo Vabbè Da tiger Sanno molto di cipolla No No Oggi qua Sanno molto di cipolla Dopo È buonissimo Sì Perché Stanno gioiando Già tanto E poi Come sapete In ogni video Del dove mangio C'è in questi video Dove sto mangiando In questa Mese Diciamo Sto facendo così Cioè Stoppo Mangio Da sola E poi Vi saluto Perché appunto Sennò sarebbe troppo annoiante Parlare tutto il tempo Quindi Sì E quindi Niente ragazzi Se vi è piaciuto questo video Mettete un like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Non per non perdere nessuno Io E scrivetevi Giorgi Commenti Se vedete che vi saluto Che nel prossimo video Vi saluterò Mi raccomando Condividete questo video Su Ciao Ciao Condividete questo video Su tutti i vostri social Con tutti i vostri amici Soprattutto su youtube Scrivendo che GiuliaRimbo Ha fatto un nuovo video Ed iscriversi al mio canale Seguitemi su instagram Mi chiamo GiuliaRimbo No GiuliaRimbo E Segui No e basta Ditemi appunto Se vi piace l'idea Del giveaway E Ditemi anche Quante persone volete E niente ragazzi Io vi mando un bacio Un abbraccio E al prossimo video Hola Grazie a tutti